Mary Jane ASMR Ciao ragazzi, bentornati a tutti quanti Come va? Tutto bene? Spero di sì Oggi ci rilassiamo un po' con la magica luna che io, come sapete, adoro come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video e di lasciarmi un like, un commento e di condividere il video con le persone interessate a questo genere di ASMR Oggi la luna, come già sapete sarà accompagnata dal wind sound la trovo un eccellente visual trigger che mi fa sempre rilassare e fa rilassare soprattutto voi e di questo ne sono rieta Proviamo a spostarci un po' nello spazio infinito tramite il vento e aiutare il fluido e aiutare il più e aiutare il la e aiutare il sentimento e aiutare il respiro e aiutare il risultato come entrare il risultato Sì Non so se in volto sono gluce sul led blu dell'Ariglight Ho voluto provare questa nuova cosa Sì 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 Disto che al tapping non mi dedico mai tantissimo nei miei video E approfitto con la rull Grazie. 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 Grazie.